Questa potrebbe essere una bellissima entrata per la vostra casa Oh e la casa? Dov'è finita? Ah no, la devo ancora Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video di Minecraft Oggi sarà un episodio veramente molto divertente ma veramente tanto particolare Infatti oggi insegnerò a molti di voi Scusatemi Stavo dicendo che siccome veramente tanti di voi mi scrivono nei commenti Ma come fai a costruire questo e quest'altro Ho intenzione oggi di farvi del mini tutorial per le costruzioni Proprio così maialino Insomma dei mini tutorial così che anche voi possiate costruire delle cose bellissime Diciamo le basi vi insegnerò Maiale perché mi stai fissando? No, non ho dei cioccolatini nella tasca Puzza via, puzza via Perfetto questo sarà il nostro assistente di oggi Lo chiamerò Susina Sì, sei già ritirato Prima lezione Allora per costruire una casa innanzitutto servirà a costruire un muro Quindi io vi faccio vedere due tipi di modelli Quindi uno normale cioè medievale diciamo E l'altro moderno Quindi prendiamo tutte le cose Allora io utilizzerò le assi di querza perché mi piacciono molto Sono le mie preferite Quindi prendiamo tutte le cose Quindi di legno ci serviranno queste cose Assi, tronchi, blablabla Poi prendiamo il pietrisco perché col pietrisco si possono fare veramente tantissime cose belle Delle lastre di pietrisco Queste lastre di querza Poi scale Ecco scalini di querza Prendiamo le cose più scontate Dei mattoni Ecco scalini di mattoni Perfetto Ecco qua una volta che abbiamo preso tutte le nostre belle cosine Voi ovviamente sceglierete quelle che vi piacciono di più a voi Facciamo una specie di muro frontale di una casa Di una casa quindi mettiamo tre tronchettini qua Vi faccio vedere un modello ragazzi Più modelli Un modello di parete potrebbe essere benissimo questo Che mettete tre pilastri così Poi mettete delle assi qua Ecco le mettete qua benissimo Poi per fare le finestre mettete i pannelli così E qua possiamo metterci ancora delle assi Ecco così è molto piatto E tutti mi dicono Come fai a rendere le cose non piatte e così reali? Adesso vi faccio vedere io Basta un pochettino di fantasia Guardate Per un pochettino di fantasia Io intendo che dobbiamo puntare Non sui blocchi ma su queste cose Vedete cartelli Stazzonate Muretti Scale e lastre Scale e lastre soprattutto Quindi possiamo fare una specie di balconcino così Oppure possiamo metterci Come mi piace molto a me delle scale Così vedete Ecco già prende forma vedete Poi magari qua ci mettiamo delle lastre Però lo conoscete già questo metodo Cosa possiamo fare oltre a questo? Una cosa molto più artistica Magari sarebbe mettere le scale così Ecco vedete E poi magari ne mettiamo un'altra così Un'altra così Facciamo la stessa cosa di qua Vedete Più che altro bisogna fare un effetto molto arzigogolato Mucca Sì 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 molto arzigogolato Più che altro il mio moto è più strambo E più bello sarà No non mi ricordo se era così il mio moto ragazzi Quindi vabbè continuiamo a fare questa scalinata Questa cosa Quindi ne facciamo un'altra qui Un'altra qui E così e così Ecco vedete Quindi già abbiamo un effetto molto più particolare Che possiamo aggiungere Anche questo coso così Perfetto Anche di qua Non lo so dove vi piace più a voi Ecco perfetto Abbiamo già creato una parete molto particolare Solamente usando le scale Se avete invece una parete così Ecco vi faccio un esempio Una parete così E volete farla più bella E voi mi direte Bella faccia ma come faccio a farla così Adesso non vi preoccupate Vi faccio vedere io Ad esempio avete una parete così nella vostra casa E non sapete come abbellirla Quindi magari prendete Vediamo Cosa possiamo prendere I pannelli di vetro Ovviamente Li mettiamo qua Li possiamo mettere due a due Così Perfetto Qua possiamo metterci Una parete di tronchi Così Ecco li mettiamo così Perfetto Qua cosa abbiamo poi Delle lastre Vedete Dovete cercare di abbellire il più possibile Di fare rilievo Che non sia una cosa piatta Ma una cosa con molto molto rilievo Ecco una cosa del genere Poi prendiamo magari i vasetti Che abbiamo E mettiamo i fiorellini Possiamo utilizzare anche i cartelli E metterli così Vedete Ecco fatto Sembra però Proprio Una specie di Banchina Una cosa del genere Si bella faccia Così Perfetto E magari le mettiamo La mettiamo anche qua sopra Molto carina così ragazzi Ecco Decisamente più carino così Ecco Abbiamo fatto una parete Per la nostra casa Molto carina così Adesso vediamo magari Per il moderno Come fare Ragazzi per il moderno è ancora più semplice Più che altro per il moderno Io utilizzo sempre Il quarzo Il calcestruzzo E con Diciamo Il moderno Con il bianco Ci sta bene molto la betulla Quindi vi consiglio di utilizzare la betulla Se fate una casa Diciamo moderna Quindi possiamo fare sempre dei pilastri Ecco Magari la facciamo molto più particolare Così Ecco Questa potrebbe essere una bellissima entrata Per la nostra casa Facciamo dei pilastri Spostati maialino Sto costruendo Ti devi spostare Allora vediamo ecco Già sbagliato Perfetto Così Così Ecco Questa potrebbe essere un'entrata epica Vediamo Mettiamo le porte Così Perfetto E poi qua sopra possiamo metterci questo coso cestellato Ok Possiamo fare così Così E tutto così Ah Mi ero scordato ragazzi Dove sono Dove sono Ecco qua Le foglie di giungla Wow Se volete dare un tocco Veramente in più Mettete le foglie di giungla Ma se lo volete dare Ancora più bello Questo tocco Questo Questo tocco Mettete un blocco qua sotto E mettete le foglie Vedete così Avremo un effetto Molto molto più bello Poi vedete questi coralli I coralli morti Adesso li prendiamo Perché voglio farvi vedere Delle stradine Perché è bello vedere Un sentiero Una mini stradina Oltre alla pala Che sappiamo tutti Che fa così È bello anche vedere Magari una stradina Con un po' di sestata Con queste cose Potete prendere il corallo morto Lo fate Basta che lo mettete così Ragazzi Il corallo morto Si fa così Prendete il corallo vivo Lo mettete qui Aspettate un pochettino E poi Non ho più acqua Bella faccia Aiutami No mi dispiace Puff Ecco qua Comunque sia vi stavo dicendo Mettete i coralli qua Poi mettete magari Del pietrisco Poi molto bene Ci sta la terra brulla Lo sapete Dai la solita stradina Lì mettete un po' così Perfetto Così Dove l'ho messo Dove l'ho messo Il pietrisco Pietrisco Dove è finito Ecco qua Pietrisco Ne mettiamo un po' qua Così Perfetto Non tanto Deve essere molto molto sparso Poi prendiamo dei fiori Che fiorellini ci possono star bene Questi alti Mettiamo dei lilla Ecco Mettiamo dei lilla Così E qua avete fatto Una bellissima stradina Che conduce alla vostra porta Vedete Questa potrebbe essere Una bellissima entrata Per la vostra casa Oh la casa Dove è finita Ah no La devo ancora costruire Quindi abbiamo visto Delle pareti Delle pareti medievali Moderne Molto carine Adesso vediamo magari Le cose che possiamo Metterci dentro Facciamo finta che questo Sia il bagno ragazzi Allora mettiamo Un calderone qua Con l'acqua E possiamo metterci Benissimo La leva così Che sembra un lavello Oppure per il lavello Potete metterci La tramoggia E sempre con la leva Molto carino Magari mettiamo Anche una lastra Vediamo Possiamo usare questa Oppure la lastra di quarzo E continuiamo Vediamo Faccio il muro Un po' più grande Così Perfetto Prendiamo anche dei tappetini Perché ci stanno molto bene I tappetini nel bagno E li possiamo mettere Qua sopra Vedete E con uno stendardo Stendardo Vediamolo Prendiamo blu Potete fare un bellissimo Telo Ecco qua Lo possiamo anche mettere qua Vedete Così abbiamo il telo Per asciugarci le mani Vedete Molto molto carino Così Poi nel bagno Ci stanno bene Molti fiorellini Ecco qua Questo è un bagno Come si deve Vabbè ci sono due lavelli Però a noi poco importa Questo cosa potrebbe essere Ad esempio Potrebbe essere una cassettiera Molto carina come cassettiera Questa Magari possiamo metterne due Possiamo prendere dove sono Gli item frame Le cornici Le vedete Ecco qua Item frame E possiamo prenderci Delle botole Vediamo Delle botole Perfetto Li mettiamo così E qua mettiamo le botole Che sembrano proprio Degli scaffali Così Magari per farli sembrare Più degli scaffali Vediamo No Vanno già benissimo Così possiamo metterci uno stendardo No direi proprio di no Bella faccia Ecco così Abbiamo creato una cassettiera Un lavello Un telo E bla 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 Eccetera È molto semplice ragazzi Io comunque ragazzi Ho fatto un sacco di tutorial Andatele a vedere Perché spiego veramente Tantissime cose Vediamo Possiamo fare Adesso una sala Facciamo una piccola sala Quindi questa sarà la nostra sala Possiamo benissimo Fare un divano Un super divano Il super divano Bellissimo Ok Così lo possiamo fare Qua possiamo metterci Dei cartelli Ecco in questo modo Così Qua degli standardi Perfetto Possono fare il nostro caso Qua sopra invece Possiamo fare Cioè ci possiamo mettere Magari delle cose Delle cose molto carine Tipo dei fiori Vediamo Qua Ecco qua Non li possiamo mettere Male 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 Quindi vediamo Magari Qua ce li fai mettere così Ecco Forse qua Ce li dovrebbe far mettere No Ancora no Quindi lo dobbiamo abbassare Un pochettino Qua me lo fai mettere almeno Ah sì Qua ce lo faceva mettere Ma cosa stavo dicendo Perfetto Allora li mettiamo Qua Fammeli Fammeli mettere Ah no è basso Ecco perché Ecco qua Ci mettiamo dei vagi Dei fiorellini Ecco Molto carino E qua magari ci facciamo Magari Televisore Così lo possiamo fare Perfetto Magari Così Vediamo Da dietro come viene Ok Così lo facciamo Il televisore Molto grande Questo ragazzi Potrebbe essere un televisore Con un'antenna Così Oppure di solito Io le metto Ecco qua Così Una di qua E una di qua Perfetto Ecco il televisore Ecco magari Questa è l'antenna satellitare Così Poi possiamo metterci Ecco Queste cose Queste botoline Qua Così La cornice Del nostro Televisore Super Tecnologico E abbiamo fatto Una stanzina Vedete Molto carina Io mi sito qua Dove è il telecomando Mamma Mamma Dove è il telecomando Oh non ce l'ho Oh mio dio Se invece vogliamo fare Una specie di fontana O di laghetto Del zen Scavate un buco Veramente a caso Ragazzi Si a caso Dovete scavarlo Così Perché deve essere Il più naturale Possibile Le cose che sono Più naturali Possibili Sono sempre Le più belle Cos'è stato Sto rumore Aerobrine Vattene via Hai capito Poi allora Prendiamo Della terracotta Le mettiamo Un po' così Ecco Sparpagliata La dovete Sempre mettere Sparpagliata Un po' così Così Cambiate i colori Sempre Perché tutti Uguali Non sono belli Da vedere Così Così Ecco fatto Una volta fatto ciò Mettiamo Tutta l'acqua Dentro Ecco Mettiamola tutta Mucca vuoi venire A fare un bagno No mi dispiace Sto facendo un tutorial Non puoi Ok Ah mi ero scordato Le ninfe Queste sono Molto importanti Perché le andiamo A mettere qua Non ne mettiamo Molte Ne mettiamo Un pochettino Qua invece Mettiamo Le canne Da zucchero Che non Si possono Mettere Perfetto Sbagliato Qua ci mettiamo Un po' di sabbia Così Ecco per dare L'idea Al posto Anche di questa Così Un po' di sabbia Deve essere Il più naturale Possibile Qua ci mettiamo Delle canne Da zucchero Un po' alzate Così Questa Così E così Perfetto E sopra ci mettiamo Delle cordicelle Perché le cordicelle Non fanno alzare Le canne da zucchero Perfetto Perfettissimo Qua ci mettiamo Dei fiori Sparsi Così Ok E qua Mettiamo Altri blocchi Perché sarà La fonte Sì Sarà la fonte Della nostra Cascatina Facciamo una mini cascata Un mini giardinetto Zen Così Perfetto Ok La facciamo venire da qua Perfetto Vieni vieni giù Uh ok Perfetto Magari ci prendiamo Dei tappetini Da mettere qua Perfetto Anche qua sparpagliati Così Ah Ecco il giardinetto Zen Si voleva proprio Ragazzi io spero Che queste idee Vi siano state utili Scrivetemi un commentino Su quale vi è piaciuta di più Magari nel prossimo episodio Una prossima volta Ve ne faccio vedere altre Voi come sempre Lasciate un bel like Vi aspetto domani Non mancate Perché sarà un bellissimo video Una bellissima giornata Ci vediamo domani Quindi ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti